eccoci qua a commentare gli inserti culturali dei quotidiani della domenica devo dirvi che questa settimana sarò estremamente rapido e infatti basteranno tre secondi questi che arrivano perfetto adesso passiamo a qualcosa di interessante ovvero la sinistra pare in da una agonia che non ha fine senza senza termine i segni di questo declino inarrestabile si possono cogliere sui giornali di oggi ma soprattutto del usciti durante la settimana allora la repubblica ha proposto prima un articolo di emilio pasquini d'antista il quale ci viene a dire che dante aveva già condannato il populismo e aveva già sbattuto i populisti all'inferno non è tutto perché pare anche secondo pasquini ovviamente che montale avesse previsto che saremmo caduti nella mano di un partito di incompetenti che risponde alle masse ignoranti del web montale aveva previsto il web pare alquanto singolare ma proseguiamo in questa carrellata di orrori perché la tendenza è appunto rileggere i classici facendogli dire cose che neppure ti passavano per la mente un altro esempio offerto sempre da repubblica è l'articolo di marco belpoliti in cui belpoliti recensendo un bel libro di salvatore nigro sulla domena sui promessi sposi arriva appunto a spiegare che la scena dei forni dell'assalto ai forni famosissima dipende in realtà dal cioè è stata ispirata dal linciaggio di giuseppe prina chi è chi era prima prima era il tassatore prediletto da napoleone buonaparte fu tirato fuori da un armadio dove si era nascosto e fu linciato in piazza manzoni ovviamente era al corrente di questi fatti che avrebbero poi ispirato la presa l'assalto ai forni ma è in questo cioè l'interpretazione che ne dà bel politica dell'incredibile cioè secondo lui manzone in qualche modo aveva capito la contraposizione attuale tra le elite tecnico finanziarie prina e il governo del popolo che poi finisce il linciaggio del popolo come appunto nella scena dell'assalto ai forni naturalmente risulta un po strano cioè prina come la fornero e l'assalto e gli assaltatori del forno come i populisti dei cinque stelle o della lega ma proseguiamo in attesa di sapere cosa ne pensa petrarca del reddito di cittadinanza o cosa direbbe ludovico riosto della flat tax noi proseguiamo e arriviamo ai giornali di oggi ai giornali di oggi dove c'è una incredibile stroncatura incredibile perché non si stronca più nessuno ormai di ernesto galli della loggia che appunto stronca e fa pezzi il romanzo caso di antonio scurati m m vuol dire mussolini e si tratta di una biografia romanzata di mussolini ebbene galli della loggia trova fa l'elenco di errori incredibili che ci sono nella ricostruzione della vicenda che pure dice scurati è basata tutta su documenti però sbaglia la data di caporetto fa entrare in azione degli elettricisti in un'epoca in cui non c'era neanche la corrente elettrica visto che questo libro è stato presentato come il fondamento del nuovo antifascismo galli della loggia termina l'articolo dicendo che a questo punto molto meglio il vecchio antifascismo almeno non sbagliava le date e infine vorrei spendere due parole anche per il nuovo libro di baricco quindi abbiamo visto tutto l'articolo di giornale il romanzo e adesso vediamo un saggio leggero divulgativo allora questo libro ha due problemi il primo problema è che è il tono il tono da maestrina democratica condiscendente paternalistico e adesso ve lo spiego bevo una birra e poi ve lo dico cose del genere ma se a qualcuno piace va beh la cosa invece che proprio non torna è la tesi centrale del libro la tesi centrale del libro sarebbe che internet è la risposta che abbiamo dato alle grandi tragedie del ventesimo secolo peccato che invece internet sia nato da arpanet che è una rete militare statunitense che doveva servire a incenerire il l'unione sovietica nel minor tempo possibile a questo punto non sappiamo più cosa dire cioè a un certo punto la destra diventerà egemone per semplice mancanza di concorrenza